Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso che ha per titolo Progettazione funzionale e geometrica applicazione guidata 1. La progettazione stradale è un'operazione molto complessa. Come abbiamo visto nelle varie lezioni del corso, la progettazione viene condotta sulla base di criteri e regole tecniche che permettono di dimensionare i vari elementi che compongono l'infrastruttura sia sotto il profilo funzionale che sotto l'aspetto geometrico. Ecco, in questa lezione ci proponiamo di applicare in modo guidato questi criteri e queste regole in relazione a determinati argomenti che sono questi che vi leggo adesso. De flusso veicolare, livelli di servizio, resistenze ordinarie al moto, spazio di frenatura e progetto delle curve circolari. Partiamo dal primo argomento, il deflusso veicolare. Vi propongo adesso un esercizio. Prima dello svolgimento di questo esercizio faremo poi qualche richiamo ai, diciamo, teorico, che ci permetterà appunto di risolvere il quesito posto. Il testo del primo esercizio è il seguente. Lungo una carreggiata di un tratto di strada operante in condizioni di flusso ininterrotto è stata misurata una velocità di flusso libero VFL pari a 120 km orari e una capacità di 2300 veicoli all'ora per ciascuna corsia di marcia. Si richiede di determinare a quale velocità si muoverebbe un flusso di 1200 veicoli all'ora in ciascuna corsia nell'ipotesi di legame lineare tra velocità e densità secondo l'ipotesi di Grinshields. Facciamo adesso alcuni brevi richiami teorici con riferimento alla lezione intitolata Capacità e livelli di servizio. Questa slide mette in relazione la velocità e la densità in condizioni di flusso ininterrotto. Secondo l'ipotesi di Grinshields, prima richiamata, il legame tra le due grandezze è di tipo lineare ed espressa da questa formula che sto adesso indicando con il puntatore. Vi ricordo che VFL è la velocità di flusso libero e D con C è la cosiddetta densità di congestionamento. Secondo richiamo riguarda il rapporto tra la portata e la capacità. Questo grafico mette in evidenza la relazione tra le due grandezze. Da un punto di vista grafico, come vedete, la relazione definisce un andamento a campana. Queste sono le formule che abbiamo visto nella lezione e che permettono di ricavare le varie grandezze che poi ci saranno utili nello svolgimento dell'esercizio. In particolare, nella figura sono messe in evidenza due grandezze. In particolare la capacità, che non è altro che la portata massima della corrente, e la densità critica, che è appunto il valore di densità, che corrisponde a questa capacità. Vi ricordo che la curva separa due campi, quello cosiddetto di flusso stabile e quello di flusso instabile. Ci troviamo in condizioni di flusso stabile quando la densità è inferiore alla densità critica. Ci troviamo invece in condizioni di flusso instabile nel caso in cui la densità supera la densità critica. L'ultimo richiamo riguardo a questo argomento riguarda il rapporto tra la portata Q e la velocità. Vedete, qui riassunte le formule che permettono di descrivere questa relazione. Possiamo osservare anche da questa immagine la presenza di due campi, quella di flusso stabile e quella di flusso instabile. Allora, fatti questi richiami, passiamo adesso allo svolgimento dell'esercizio. Partiamo tracciando la relazione che lega la velocità alla densità. Quindi sull'asse delle ascisse riportiamo la densità, sull'asse delle ordinate riportiamo la velocità. Questo legame, come abbiamo visto, è di tipo lineare. Allora, possiamo scrivere quindi che la velocità è uguale alla velocità di flusso libero meno la velocità di flusso libero diviso la densità di congestinamento per D. Richiamiamo anche il legame tra portata e densità. sull'asse delle ascisse indichiamo, riportiamo la densità, sull'asse delle ordinate abbiamo la portata, il legame, come abbiamo visto prima, è di questo tipo. In particolare possiamo indicare con C la capacità che è uguale alla portata critica che corrisponde alla portata massima della corrente. Possiamo quindi scrivere la portata critica come prodotto della velocità critica per la densità critica. Ricordando che la densità critica è uguale alla densità di congestionamento diviso 2. A questo punto possiamo scrivere che la velocità critica è uguale alla velocità di flusso libero meno la velocità di flusso libero diviso la densità di concessionamento per la densità critica in pratica questa formula diciamo la ricaviamo da questa e quindi sostituendo otteniamo che la portata critica che è uguale alla capacità è uguale alla velocità di flusso libero diviso 2 per la densità critica diviso 2 che ci dà velocità di flusso libero per la densità critica e scusate e scusate la densità di congestionamento diviso 4 quindi dalla formula precedente possiamo ricavare che la densità critica e scusate la densità di congestionamento è uguale a 4 volte la capacità diviso la velocità di flusso libero ricordando i dati dell'esercizio e sostituendoli quindi nell'equazione otteniamo 4 per 2300 che era la capacità in veicoli all'ora data dal testo dell'esercizio diviso la velocità di flusso libero pari a 120 km orari risolvendo otteniamo la densità di congestionamento pari a 76,7 veicoli a km ora ricordiamo che la densità è uguale alla densità di congestionamento che moltiplica 1 meno la velocità diviso la velocità di flusso libero moltiplicando entrambi i membri dell'equazione per la velocità otteniamo v per d è uguale a d con c che moltiplica 1 meno v diviso v fl per v da cui otteniamo q è uguale a d con c che moltiplica 1 meno v diviso v fl che moltiplica v portando d con c al primo membro abbiamo q diviso d con c che è uguale a v meno v al quadrato diviso v fl da cui otteniamo possiamo scrivere questa situazione nella seguente forma v al quadrato diviso v fl meno v più q diviso d con c uguale a 0 è un'equazione di secondo grado di secondo grado in v quindi possiamo risolvere rispetto a v e quindi abbiamo v 1 e 2 è uguale a 1 più o meno la radice quadrata di 1 al quadrato meno 4 diviso v fl per q diviso d con c diviso 2 che moltiplica 1 fratto v con l che possiamo risolvere sostituendo i termini questo ci da 120 che è la velocità di flusso libero diviso 2 che moltiplica 1 più o meno la radice quadrata di 1 meno 4 diviso 120 per 1200 diviso 76,7 che è la densità di congestionamento che avevamo calcolato prima questa ci da due soluzioni v con 1 che è uguale a 101,3 scusate chilometri orari e v con 2 che è uguale a 18,5 chilometri orari ora v con 1 e v con 2 fanno riferimento a condizioni di flusso stabile il primo valore e instabile il secondo valore sostanzialmente ci troviamo in una situazione di questo tipo quindi qui abbiamo la v qui abbiamo la q questa è la curva quindi abbiamo le due soluzioni che corrispondono a v con 1 e v con 2 v con 2 la scartiamo perché fa riferimento a condizioni di flusso instabile quindi in definitiva la velocità richiesta dall'esercizio è pari a 101,3 chilometri orari ora dopo aver risolto questo esercizio vi propongo di risolvere un altro esercizio del tutto simile ma con dati diversi quindi in particolare vi lascio come spunto di riflessione appunto quello di ripetere l'esercizio assumendo una velocità di flusso libero pari a 100 chilometri orari e commentare le differenze sul risultato finale passiamo al secondo argomento livelli di servizio questo è il testo dell'esercizio si consideri un tratto di autostrada con due corsie caratterizzato da un ondamento ondulato si assuma un flusso direzionale di 2.900 veicoli all'ora con una percentuale di mezzi pesanti pari al 5% e un valore WC uguale a 0,90 chiedo di determinare il livello di servizio della strada noti i rapporti Q su C che delimitano i livelli di servizio nonché la velocità di flusso assumendo una velocità di flusso libero di 90 chilometri orari i valori dei rapporti relativi a Q con C sono appunto indicati nella tabella prima di sviluppare l'esercizio facciamo qualche richiamo teorico con riferimento alla lezione intitolata capacità e livelli di servizio in particolare richiamiamo la formula per il calcolo della capacità che può essere stimata in questo modo la capacità è pari a 2000 per n per fi per t con C per WC dove n è il numero di corsie fi è un coefficiente che dipende dal modo d'uso e si può assumere pari a 0,5 per le strade con un'unica carreggiata e 1 per strade a carreggiata e separate T con C dipende dalla percentuale di mezzi pesanti nel flusso veicolare e WC dipende dalle caratteristiche di bordo e dimensione il valore di Tc si può ricavare da questa tabella in funzione del percentuale dei mezzi pesanti e del tipo di tracciato diciamo metto in evidenza come nel caso nostro in esame il valore di riferimento da assumere è pari a 0,87 perché ci troviamo abbiamo una percentuale di mezzi pesanti pari al 5% e ci troviamo in un tracciato con andamento ondulato per quanto riguarda il valore WC questo dipende dalla categoria di strada e come si può osservare da queste due tabelle che si riferiscono appunto a due esempi e dipende da una serie di parametri che sono indicati appunto in tabella nel nostro caso il valore WC ci viene dato ed appunto pari a 0,90 l'ultimo richiamo riguarda i livelli di servizio in particolare come questi si legano alla relazione tra velocità e portata in questo grafico vedete diciamo l'area è suddivisa in settori ogni settore corrisponde a un certo livello di servizio e un settore delimitato rispetto all'altro da un determinato valore del rapporto Q su C sono quei valori che abbiamo visto prima in tabella quindi quei valori lì indicati sostanzialmente corrispondono al passaggio da un livello di servizio al successivo fatti questi richiami passiamo adesso a svolgere l'esercizio allora riscriviamo la formula relativa al calcolo della capacità c uguale a 2000 per n per phi per t con c per wc allora nel nostro caso n il numero di corsie è pari a 2 phi lo possiamo assumere pari a 1 wc ci viene dato dall'esercizio ed è pari a 0 90 e t con c lo ricaviamo dalla tabella che vi ho mostrato prima e come vi ho fatto vedere nel nostro caso il valore da assumere è pari a 0 87 allora sostituendo i dati nella formula possiamo scrivere c uguale a 2000 per 2 per 1 per 0 87 per 0 90 che ci dà un valore di capacità della sezione pari a 3132 veicoli all'ora ricordiamo che la portata unidirezionale vale 2.900 veicoli all'ora possiamo quindi calcolare il rapporto q su c quindi 2.900 diviso 3.132 che ci fornisce come risultato il valore 0,926 se confrontate questo valore con i valori riportati in tabella legata al testo si osservate come il livello di servizio diciamo corrispondente e pari ad e quindi la strada in quelle condizioni di esercizio si trova a un livello di servizio appunto e andiamo avanti con diciamo la risoluzione dell'esercizio quindi determiniamo la velocità critica che sappiamo ormai essere uguale alla velocità di flusso libero diviso 2 e quindi utilizzando i dati del problema abbiamo 90 diviso 2 che ci dà 45 chilometri orari ricordiamo l'espressione relativa alla densità di congestionamento che pari a 4 volte la capacità diviso la velocità di flusso libero sostituendo i dati otteniamo 4 per 3132 diviso 90 che ci dà come risultato 139 virgola 2 veicoli a chilometra ora questa è la densità critica relativa all'intera carreggiata composta da due corsie possiamo quindi ricavare la densità per la singola corsia di congestionamento che è uguale a 69 virgola 6 veicoli a chilometro a corsia ricordando che la densità critica è uguale a la densità di congestionamento diviso 2 sostituendo i valori che abbiamo ottenuto 69 virgola 6 sostituendo il valore che abbiamo ottenuto 69 virgola 6 dividendolo per 2 otteniamo 34 virgola 8 veicoli a chilometro a corsia richiamando ancora una volta la formula che abbiamo visto prima relativa alla velocità di flusso questo è uguale alla velocità di flusso libero diviso 2 che moltiplica 1 più la radice quadrata di 1 meno 4 volte la portata diviso la velocità di flusso libero per la densità di congestionamento sostituiamo i valori quindi abbiamo 90 diviso 2 che moltiplica 1 più la radice quadrata di 1 meno 4 per 1450 diviso 90 per 69,6 questa non è altro che la portata diciamo unidirezionale 2900 diviso 2 ok otteniamo come risultato 57,6 chilometri orari e questa è la grandezza che ci viene richiesta dall'esercizio cioè il valore di velocità del flusso vi propongo quindi uno spunto di riflessione quindi ripetere i calcoli assumendo una velocità VFL pari a 80 chilometri orari e fare un confronto con il risultato precedente passiamo adesso al terzo argomento resistenze ordinarie al moto questo è il testo dell'esercizio si è data un'autovettura di massa pari a 897 chilogrammi che viaggia alla velocità costante di 130 chilometri orari si assumano i seguenti valori resistenza al rotolamento pari a 15 newton al chino newton densità dell'aria pari a 1,266 newton metri alla meno 4 per secondo quadro in condizioni standard superficie maestra del veicolo pari a 2,4 metri al quadrato e coefficiente aerodinamico pari a 0,35 si richiede di calcolare le resistenze ordinarie cui è soggetta l'autovettura allora prima di svolgere l'esercizio al solito facciamo i richiami teorici in questo caso ci riferiamo alla lezione intitolata principi di meccanica della locomozione allora per quanto riguarda la resistenza al rotolamento ricordiamo che questa è imputabile a tre fenomeni sostanzialmente l'attrito ai perni delle ruote urti e moti anormali delle ruote dovute ad irregolarità del piano stradale e la deformabilità degli pneumatici quest'ultima componente e quella preponderante quindi questo è lo schema di riferimento per effetto della deformabilità degli pneumatici sulla superficie di contatto non abbiamo una distribuzione uniforme delle tensioni verticali questo fa sì che la risultante di queste tensioni la forza P che non è altro poi che la reazione della pavimentazione reazione P che in valore assoluto è uguale al peso che grava sulla ruota in corrispondenza del centro della stessa sia non allineata a P ma disassata di una quantità delta questo determina un momento resistente dal quale possiamo ricavare una resistenza una forza resistente che esprimiamo poi in definitiva come prodotto tra P e il coefficiente di resistenza al rotolamento valori tipici di R con R come vedete variano in funzione del tipo di veicolo che stiamo considerando l'altra componente di resistenza ordinaria è quella aerodinamica ed è dovuta anche in questo caso a diversi fenomeni sovrappressioni che si generano nella parte anteriore del veicolo depressioni sulla parte posteriore del veicolo e attriti lungo le fiancate questa è la formula che ci permette di calcolare la resistenza aerodinamica C è un coefficiente che dipende dalla forma del veicolo coefficiente cosiddetto aerodinamico D è la densità dell'aria V è la velocità relativa veicolo aria S è la sezione maestra e K nel caso in cui volessimo riferirci a una formula sintetica che sto qui adesso indicando è un coefficiente che dipende appunto dai fattori che abbiamo prima indicato in particolare dalla densità dell'aria e dal profilo aerodinamico Allora vediamo adesso di svolgere l'esercizio sulla base dei dati che ci vengono forniti applicando le formule che abbiamo appena richiamato ricordiamo che la resistenza totale è uguale alla resistenza al rotolamento più la resistenza aerodinamica e partiamo dal calcolo della resistenza al rotolamento quindi la resistenza al rotolamento come abbiamo visto è uguale a coefficiente di resistenza r con r per p p è il peso che come sappiamo è uguale al prodotto della massa per l'accelerazione di gravità quindi utilizzando i dati che ci sono stati forniti possiamo scrivere 897 la massa del veicolo per 9,81 l'accelerazione di gravità e dividiamo per mille in modo poi da avere il risultato in kN che è pari a 8,80 quindi la resistenza al rotolamento scusate la resistenza al rotolamento è uguale a 8,80 per 15 newton che ci dà come valore 132 newton calcoliamo adesso il secondo contributo quello relativo alla resistenza aerodinamica quindi richiamiamo la formula che è uguale a un mezzo per delta per c per s per v al quadrato sostituendo ai vari termini i valori corrispondenti abbiamo un mezzo per 1,266 per 0,35 per 2,4 per la velocità in questa formula va inserita in metri al secondo quindi noi abbiamo 130 km orari lo dividiamo per 3,6 in modo da far tornare i conti al quadrato e otteniamo un valore pari a 683 newton è interessante calcolare la resistenza aerodinamica specifica r con a come rapporto tra la resistenza totale e il peso quindi abbiamo 683 diviso 8,8 newton su chilo newton che ci dà il valore 77,6 newton a chilo newton voglio mettere in evidenza proprio la differenza vi ricordo che r con r è uguale a 15 newton su chilo newton quindi c'è una notevole differenza tra i due contributi questo e questo quindi la resistenza aerodinamica sicuramente ha un ruolo preponderante relativamente alle resistenze ordinarie quindi calcoliamo il valore di resistenza totale semplicemente come somma dei due contributi quindi abbiamo 132 più 683 newton che ci fornisce il valore richiesto che pare a 815 newton anche al termine di questo esercizio vi lascio uno spunto di riflessione che richiede poi lo svolgimento di un esercizio analogo con dei dati diciamo diversi e il testo è questo ripetere l'esercizio appunto per una velocità del veicolo di 80 km orari e svolgere le proprie considerazioni in raffronto al risultato precedente passiamo al quarto argomento spazio di frenatura questo è il testo dell'esercizio si è data un'autodattura di massa 1250 kg che percorre una livelletta con pendenza del 3% alla velocità di 80 km orari si assumano i seguenti valori per r con r 20 N per delta 1,15 per s 2,1 metri quadri c uguale a 0,35 beta uguale a 1,1 f con al coefficiente di aderenza longitudinale da calcolare con questa formula con V espresso in km orari si richiede di calcolare lo spazio di frenatura nei due sensi di marcia allora al solito prima di svolgere l'esercizio facciamo un breve richiamo teorico con riferimento alla lezione intitolata principi di meccanica della locomozione in particolare richiamiamo la formula per il calcolo dello spazio di frenatura che vedete qui indicata con l'integrale tra 0 e df di ds che appunto ci dà lo spazio di frenatura che si calcola con questo integrale dove il significato dei termini è abbastanza è ovvio i limiti di integrazione sono compresi tra v e 0 e si può racchiudere si possono racchiudere alcuni termini che comparono in una formula nel coefficiente di aderenza longitudinale equivalente f è funzione della velocità poi se facciamo un'assunzione semplificativa e in particolare assumiamo che questo coefficiente di aderenza equivalente si mantenga costante durante la frenatura e questa è un'ipotesi sicuramente a favore di sicurezza otteniamo la formula semplificata che vedete qui proiettata di con f uguale a v al quadrato la velocità iniziale diviso 2g che moltiplica appunto questo coefficiente di aderenza equivalente assunto costante più o meno i la pendenza longitudinale allora fatti questi richiami passiamo adesso alla risoluzione dell'esercizio e allora partiamo con il calcolo del coefficiente di aderenza equivalente f con e che è uguale a 1 diviso beta che moltiplica r con r più f di al coefficiente di aderenza longitudinale più il termine diciamo così aerodinamico quindi delta per c per s per v al quadrato diviso 2p r r con r è uguale a 20 newton su kilonewton quindi è uguale a 0,020 f al lo calcoliamo con la formula data dal testo e quindi 0,48 meno 0,00 225 per v con v in chilometri orari quindi sostituiamo a v 80 e otteniamo 0,30 per quanto riguarda il termine aerodinamico abbiamo 1,15 per 0,35 per 2,1 per la velocità al solito va espressa in metri al secondo quindi mettiamo 80 diviso 3,6 al quadrato questo è il numeratore al denominatore troviamo 2 per la massa 1250 per g accelerazione di gravità insomma facendo questo calcolo otteniamo 0,016 a questo punto possiamo applicare la formula semplificata che abbiamo visto prima quindi sostituiamo direttamente i termini quindi abbiamo 80 diviso 3,6 al quadrato diviso 2 per 9,81 per 0,031 più o meno la pendenza longitudinale che è pari a 0,03 perché se vi ricordate la livelletta aveva una pendenza del 3% quindi effettuiamo il calcolo sia in salita diciamo così che in discesa e allora otteniamo due valori il primo è pari a 74,9 metri appunto in salita questo valore lo otteniamo utilizzando il più quindi sommando il contributo relativo alla pendenza longitudinale l'altra grandezza quindi la distanza di frenatura verso della discesa è pari a 91,2 metri appunto in discesa allora come spunto di riflessione vi lascio anche in questo caso vi chiedo anche in questo caso di ripetere l'esercizio cambiando i dati in particolare assumendo una velocità pari a 100 km orari passiamo quindi al quinto e ultimo argomento di questa lezione progetto di curve circolari il testo dell'esercizio è il seguente l'esercizio è diviso in due parti prima parte si considera una curva circolare di una strada extraurbana con pendenza trasversale pari al 7% calcolare il più piccolo raggio idoneo a garantire l'equilibrio di un veicolo che la percorre a 70 km orari seconda parte si considera una curva di raggio 330 metri con la medesima pendenza del 7% calcolare la velocità limite con cui la curva può essere percorsa senza lo svio del veicolo al solito facciamo un breve richiamo teorico con riferimento alla lezione intitolata andamento planimetrico dell'asse stradale in particolare la parte 1 richiamiamo brevemente lo schema a cui ci si riferisce per valutare le condizioni di equilibrio del veicolo in curva questo schema diciamo mette in evidenza quelle che sono le forze che agiscono sul veicolo in curva e la condizione di equilibrio da cui poi si ricava la formula di progetto in particolare secondo questo schema l'equilibrio del veicolo in curva si basa su due contributi uno legato alla pendenza trasversale della curva e un altro legato all'aderenza trasversale quindi dall'equazione di equilibrio si ricavano alcuni valori caratteristici del raggio di curvatura per un assegnato intervallo di velocità di progetto quindi la formula in questione è quella che vedete qui indicata con ovvio significato dei termini per ciò che attiene il coefficiente di aderenza trasversale nella progettazione bisogna assumere dei valori limite in funzione della velocità di progetto che sono i valori assegnati dalla normativa quindi questa tabella riassume appunto detti valori ora fatti questi richiami teorici passiamo all'esercizio che abbiamo visto si compone di due parti iniziamo con la prima parte diciamo la parte A così come l'abbiamo indicata prima allora richiamiamo la formula v al quadrato diviso r è uguale a g per la tangente di alfa più g per f di a con t da questa ricaviamo il raggio che è uguale a v al quadrato diviso g per la tangente di alfa più g per f di a t coefficiente di aderenza trasversale allora per quanto riguarda il coefficiente di aderenza trasversale dalla tabella che vi ho mostrato prima si possono ricavare i valori relativi a una velocità di 60 km orari a questo corrisponde un f di ad t pari a 0 17 mentre alla velocità di 80 km orari corrisponde un valore di f di ad t pari a 0 13 con una semplice proporzione o con una interpolazione lineare possiamo stimare il valore del parametro f di ad t per la velocità di 70 km orari quindi anche se non è disponibile in tabella lo possiamo ricavare facilmente ed è pari f di ad t uguale a 0 15 scusate lo riscrivo sotto f di ad t corrispondente a 70 km orari e pari a 0 15 quindi sostituendo questi dati nella formula ricaviamo il raggio di curvatura quindi in particolare abbiamo 70 diviso 3 virgola 6 al quadrato diviso 9 virgola 81 che moltiplica 0 virgola 0 7 la pendenza trasversale della curva così come ci viene detto dall'esercizio più il parametro che abbiamo appena determinato pari a 0 15 otteniamo 175 virgola 24 metri che ovviamente poi possiamo arrotondare questo è il risultato del primo esercizio della prima parte passiamo alla seconda parte B allora richiamiamo la formula B al quadrato su R è uguale a G che moltiplica tangente di alfa più f di ad t allora in questo caso è noto il raggio dobbiamo ricavare la velocità la difficoltà nasce però dal fatto che il fattore cioè il parametro f di ad t è funzione della velocità quindi dobbiamo procedere per tentativi e allora ricaviamo intanto la formula della velocità quella che abbiamo appena scritto quindi radice quadrata di R per G che moltiplica tangente di alfa più f di ad t allora inseriamo come valore di primo tentativo V uguale a 100 km orari il coefficiente di aderenza trasversale corrispondente a questo valore di velocità è pari a 0 11 e quindi calcoliamo la velocità che otteniamo sostituendo questi valori V è uguale alla radice quadrata di 330 metri che è il raggio di curvatura scusate qui possiamo anche omettere la unità di misura quindi per 9 virgola 81 che moltiplica 0 virgola 0 7 più 0 11 che ci dà un valore di 24 virgola 14 metri al secondo che corrisponde a 86 virgola 90 km orari che è un valore diverso da quello che avevamo ipotizzato e allora bisogna fare diciamo secondo tentativo quindi quindi stimiamo il valore di f di a di t corrispondente a una velocità pari a 86 virgola 90 chilometri orari sempre sulla base dei valori riportati nella tabella legata al testo e quindi con una semplice proporzione o interpolazione delle aree che non sto ovviamente qui a riproporre si ricava f di a di t pari a 0 123 a questo punto sostituiamo questo valore nuovamente nella formula quindi abbiamo v uguale alla radice quadrata di 330 per 9,81 per 0,07 più 0 123 che ci dà come valore 89 virgola 96 che non è quello di prima ma sicuramente si avvicina molto di più rispetto al caso precedente quindi facciamo un terzo tentativo al solito dobbiamo stimare il coefficiente di aderenza trasversale associato a questo valore quindi la velocità pari a 89 virgola 96 chilometri orari che possiamo arrotondare ovviamente anche a 90 poi e otteniamo un valore di f di ad t pari a 0 12 sostituiamo al solito e otteniamo v uguale a 330 per 9 virgola 81 per 0 virgola 07 più più questo valore che abbiamo appena ottenuto 0 12 che ci dà 24 virgola 80 metri al secondo uguale a 89 virgola chilometri orari ora possiamo vedere che i due valori che sto qui evidenziando sono molto vicini abbiamo la differenza un delta minore di un chilometro orario quindi il risultato è più che accettabile e allora in definitiva la velocità che ricerchiamo la possiamo assumere pari a 89 arrotondando chilometri orari anche al termine di questo esercizio vi propongo uno spunto di riflessione che prevede di calcolare la velocità di svio per la curva di raggio pari a 330 metri ipotizzando che la pendenza trasversale sia del 5% riepiloghiamo gli spunti di riflessione ripetere l'esercizio numero 1 assumendo una velocità di flusso libero pari a 100 chilometri orari e commentare le differenze sul risultato finale ripetere i calcoli dell'esercizio numero 2 assumendo un valore VFL pari a 80 km orari e fare un confronto con il risultato precedente ripetere l'esercizio numero 3 per una velocità del veicolo di 80 km orari e svolgere le proprie considerazioni in raffronto al risultato precedente ripetere l'esercizio numero 4 assumendo una velocità pari a 100 km orari e infine ripetere l'esercizio numero 5 calcolando la velocità di svio per la curva di raggio 330 metri ipotizzando che la pendenza trasversale sia del 5% questa lezione si conclude qui vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che il materiale didattico di supporto è disponibile nella sezione dedicata al corso sul sito web Uninet1 un'esercizio un'esercizio un'esercizio